Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Sono 135, età media 41 anni, i nuovi casi di coronavirus in Toscana, dove si registrano altri 4 morti, 3 uomini e una donna. 9.14 delibere di sospensione sono state firmate oggi a dipendenti dell'azienda Toscana Centro per i territori di Firenze, Prato e Pistoia per inosservanza dell'obbligo vaccinale. I provvedimenti riguardano due medici, quattro infermieri, quattro operatori sociosanitari, tre ostetriche e un tecnico della prevenzione. Un uomo di 88 anni è morto stamani a Casciana Terme, dopo essere precipitato per circa tre metri da un'argine. L'anziano avrebbe accusato un malore mentre stava raccogliendo le olive e ha perso l'equilibrio cadendo. I soccorsi sono stati vani purtroppo. Nonostante fosse stato allertato anche l'elisoccorso per un trasferimento rapido in ospedale, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell'uomo che è avvenuto in un terreno di proprietà privata e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dei fatti. Davide Pecorelli, l'imprenditore scomparso per nove mesi e ritrovato poi a largo dell'isola di Monte Cristo, stamani non ha dato risposte ai carabinieri della caserma di Porto Santo Stefano, dove era convocato per una richiesta di informazioni sulla vicenda di documenti e foto a lui trovati e che i carabinieri mettono in relazione con le monete d'oro del V secolo d.C., rubate nel 2019 dal Museo di San Mamiliano a Sovana. Pecorelli è indagato per ricettazione. Un trentenne e un 55enne residenti nel Fiorentino sono stati perquisiti questa mattina nell'ambito di una inchiesta che li vede accusati di essere i presunti autori delle minacce arrivate sul profilo Facebook della sindaca di Empoli, Brenda Barnini, nei mesi di novembre del 2020 e a gennaio 2021. Le indagini sono condotte dalla Polizia Postale, Digo e personale del Commissariato di Empoli. Un 25enne è stato rintracciato dai carabinieri e denunciato a Fucecchio per il furto messo a segno in un negozio in pieno giorno. Le immagini di videosorveglianza hanno immortalato l'uomo nel momento in cui, con un tombino stradale, ha sfondato il vetro della porta d'ingresso, dalla quale è poi fuggito con degli indumenti e dei soldi presi alla cassa. Dopo che il titolare dell'esercizio ha sporto denunce, i militari sono riusciti a identificare la persona, ma senza fissa dimora tunisino, che dovrà rispondere di furto aggravato. Arrestato dai carabinieri a Pistoia, dopo aver visto, mentre cedeva marijuana, a un giovane. I carabinieri lo hanno scoperto, proprio mentre dava un involucro con tre grammi dello stupefacente, stupefacente in centro a Pistoia. Dagli è scattata la perquisizione domiciliare, che ha permesso di trovare altri 135 grammi della stessa sostanza sotto il materasso, oltre a tutto il materiale per il confezionamento delle dosi. L'uomo, 33 anni, di Pistoia, con precedenti di polizia a carico, è stato arrestato. E oggi l'assessore regionale alla sicurezza Cioffo ha detto gli episodi accaduti ieri davanti al magazzino di un pronto moda a Prato sono gravissimi e devono essere condannati con fermezza, senza se e senza ma. La violenza come forma di confronto con chi esprime idee o giudizi diversi dai propri è la negazione dei valori democratici e civili da cui le nostre comunità discendono. E da oggi è tornato attivo nell'ospedale di San Mignato il reparto di medicina fisica e riabilitativa, dopo che negli scorsi mesi lo che erano stati dedicati alla cura di pazienti Covid con l'attivazione di reparti per le cure intermedie. Lo fa sapere in una nota la ASL spiegando che la ripresa delle attività riprende dunque la sua normale funzione dopo ben due anni. E oggi la funzione pubblica della CISL dice ci fa piacere che il governatore Gianni ora riconosca che abbiamo ragione noi nel chiedere assunzioni, ma è grave che lo faccia sulla stampa piuttosto che ai tavoli di confronto e ci preoccupa che denunci di fatto una discriminazione del governo contro la Toscana. La dichiarazione fa riferimento a quanto dichiarato ieri dal governatore Gianni a un convegno organizzato da ANCI. E oggi conferenza stampa a Firenze con il sindaco Nardella e l'assessore Sacchi che lascia la città per Milano. E il sindaco ha detto con l'assessore Sacchi abbiamo lavorato insieme sulle grandi istituzioni. Penso al teatro della Pergola, mi sono sentito con i soci del teatro, con il presidente della regione e ho avuto una conversazione anche col sindaco di Milano, Sala. Sacchi per il momento rimarrà presidente della fondazione. Così proprio il sindaco oggi che ha annunciato che Sacchi andrà ufficialmente a far parte della squadra del sindaco di Milano. Ed è stato approvato dal Consiglio della Città Metropolitana di Firenze l'accordo di programma per il progetto definitivo della bretella di collegamento fra la statale 66 Pistoiese, siamo nel comune di Signa, e la statale 45 di Comeana nel territorio di Poggio a Caiano. La bretella permetterà di ridurre il traffico veicolare di attraversamento nel centro abitato di Poggio a Caiano. E' piena capienza di visitatori, via l'obbligo di distanziamento sociale, possibilità di portare gruppi più numerosi al museo. Così le gallerie degli uffizi a Firenze mettono in atto le nuove norme anti-Covid decise dal governo che entrano in vigore oggi stesso. Il complesso museale torna ad attivare la sua massima capienza. E ora vediamo come sarà il tempo domani. Sarà nuvoloso, con possibili piogge, soprattutto nelle zone settentrionali della nostra regione, mentre i venti saranno deboli, moderati, i mari sono poco mossi o mossi, e le temperature sono le minime stazionari o lieve aumento, mentre le massime sono anche in questo caso stazionarie o in calo, ma nelle zone appenniche, quindi nelle zone più alte. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie.